Bene, Orfana del Carnevale ha deciso di reinventarsi come capitale dell'amore a un'occasione di San Valentino. Spente le luci di Natale, prorogate fino a fine gennaio, si sono accese quelle dell'amore. Pietrasanta per la prima volta si veste a tema per San Valentino. In occasione della festa degli innamorati, domenica prossima, 14 febbraio, il centro storico, ma anche il pontile e perfino la collina della Rocca, sono caratterizzati da un inedito allestimento scenografico, dal 7 al 21 febbraio, spazio e grandi cuori decorati, con i fiori in luci, panoramiche postazioni per i selfie, canzoni d'amore in filo di fusione, insomma, tanto romanticismo e tanto rosso, ma anche un contesto fotografico e poetico, sconti nei negozi aderenti, menu a tema nei ristoranti. Una novità ribattezzata Pietrasanta Love Is, in un periodo del calendario di eventi, rimasto orfano del Carnevale, ma che nell'intenzione dell'amministrazione potrà proseguire per dare una spinta alle presenze e agli affari fra gli operatori economici. Pietrasanta Love Is è il primo evento creato a Pietrasanta, con cui l'amministrazione Giovannetti sta portando avanti, grazie anche all'interesse dell'assessore Bresciani, del consigliere Paolo Bigi, che ci hanno aiutato insieme a costruire questo magnifico evento. Un'iniziativa a sostegno del territorio, dei commercianti, sarà un contenitore di più idee, i commercianti sposeranno una scontistica all'interno dei loro locali, le risultazioni faranno un menu tematico, la filodiffusione con musica romantica. E adesso andiamo a conoscere...